Sono Bruno Codenotti, lavoro al CNR, ho scritto questo libro, La rivoluzione silenziosa, con un vecchio amico informatico, Mauro Leoncini. Lui insegna all'Università di Modena e durante gli anni, da quando eravamo studenti universitari, ci siamo confrontati sull'informatica, sull'evoluzione che ha avuto fino ad arrivare ai nostri giorni. Il libro che abbiamo presentato per questo concorso riflette un po' questo aspetto ed è un modo per ragionare su come è cambiata la nostra vita nell'era digitale. Grazie.